Un percorso che valorizza il fondale delle Cinque Terre ma che soprattutto valorizza un elemento fondamentale, ossia l'inclusione. Sì, un sentiero di quelli che non si vedono osservando il mare perché è subacquea. Un sentiero delle Cinque Terre offerto alle persone che normalmente sono escluse dal mare e soprattutto dai fondali del mare, che sta fra i 6 metri e i 18 e che prevede una serie di tappe, ben descritte anche in braille. Un sentiero che quindi mira a esaltare ciò che normalmente in una società come la nostra è destinato a rimanere ai margini, ovvero la lentezza, ovvero uno sguardo che anche i non vedenti possono usare, non solo usare ma anche offrire alla nostra vista. Perché impariamo nella vita che le situazioni che mettono ai margini le persone ci privano spesso di tante considerazioni e tanta lettura di che le persone ai margini invece hanno da offrirci per capire esattamente noi che sembriamo inclusi e sembriamo in corsa, quanto abbiamo invece da imparare. Quali sono le particolarità di questo percorso? Le particolarità di questo percorso sono innanzitutto da un punto di vista naturalistico rappresentano la quasi totalità dei fondali marini delle Cinque Terre, quindi c'è una ricchezza animale e vegetale estremamente importante e poi abbiamo cercato di renderlo fruibile a persone diversamente abili, sia da un punto di vista motorio che da un punto di vista visivo, quindi ipo e non vedenti. Un percorso quindi fruibile per i diversamente abili ma anche interessante per chi vuole immergersi e quindi una sorta di sentieristica marina in più nelle Cinque Terre. Esattamente, esattamente. Con questo speriamo di spostare un po' anche l'attenzione del turista che viene e che percorre al 100% per il momento sentieri terrestri. Questo invece è un sentiero attrezzato, organizzato dal parco, gestito e manutenuto dall'Associazione Cinque Terre sotto il mare, per il turista che vuole dare un'occhiata anche a quello che c'è sotto il mare delle Cinque Terre, non solo quello che ci si riflette.